Ciao, mi chiamo Alessandro e sono uno degli enolgi della cooperativa Terricevico. Terricevico è situato a Lugo e nasce nel 1963. Conta ben 5.000 soci e 6.700 ettari. Oggi parliamo di Pignoletto Frizzante, in particolare di questo Collidimola Doc Pignoletto Frizzante della linea Romandiola. Romandiola, che vuol dire Romagna, è un vino della linea storica di Celico. È un vino pluripremiato e oggi si riconferma nel 2020, arrivando terzo al concorso di decanter tra i Pignoletti Frizzanti. È un vino che si presenta di un colore giallo paglierino con riflessi verdi. Ha un naso intenso, complesso, ha note di ben cospino, di pesca, di rosa. Al palato è ben bilanciato, armonico, piacevole. Esposa molto bene gli antipasti, i primi piatti e i piatti a base di pesce. Spero di vedervi presto al baccanale, ragazzi.